Benvenuti miei compagni di guerra sono Zaxx e questo nuovo video su Warhammer Mark of Chaos Dopo aver sconf... dopo aver andato a caduta della Torre Alta di Torre Alta sono su un incrocio dove portava a... la conquista di... la conquista di Pantano di Piaga o Firstermash oppure andiamo alla portata di Goviglio di Spine non credo che sia ancora pronto perchè il compagniamento... non sia molto bravo nei compagniamenti quindi non so che il mio esercito non è ancora ben messo quindi direi prima di andare a questi Pantano Piaga andiamo pian pianino e sto... cavolo da lì microfono allora dove sono stati i droni intorno a... affetto di... i droni di casco sono che fanno intorno il freddo che ora sono anche vivono tra le rovine ok allora mettiamola... mettiamola... mettete lì perché siete i verlo e io non mi sono ancora ricordo ok metto questo e... questo posto... questo è il re-shot cacchio ok così è aumentato mettiamo... e... i... i... che che sono ecco... tipo... qua... hmmm... parieri... scuoto... direi... meno questi... ed... non son sicuro... Ma è meglio avere il carissime così E andiamo Eccoci qua La rinquista di Pantano di Piaga Anche se hanno come tutto spesso contro i gommi del Tenebra nel corso dei secoli I Warp Scraven temono gli Orchi Da cui bisogna i rumori ruoti di fanno paura da uomini di ratto Ok, cominciamo Allora Mettiamo vicino a loro Il carissimo scan qua Ok, andiamo Ok, perfetto Allora, il disperamento dell'obiettivo Ci sono 3 oggetti monici Uccidi il capoguera di Orchi e le sue guardie Cazzo deve sopravvivere la guerra Beh, questo è normale Ok, carichiamo Questo è noi Oh, gli Orchi è normale Combattiamo dai C'è uno scaven che sfonda Che sfonda Un C'è Non rendetevi conto come sono messi Uno scaven che C'è incredibile Uno scaven che sfonda Un orco L'abbiamo visto pure su Brobo 2 Un altro Un altro Un altro Un altro nero Questi qua Ha fatto fuori Un Cioè Vediamo che ci Ci conto Di cosa Abbiamo appena visto Ammazzali Come ti voglio Come ti voglio Il più clever generale Non sembra sicuro Uccidi Ili! 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 Prendiamo l'ultimo, dai. Dai. Prendiamo l'ultimo, dai. Prendiamo tutte le nuote, tarica tutte, ammazzali, ammazzali. Ammazzali tutti questi stronzi, dai. E' morto pure quello, ma... Stendardo, oh, voglio stendarlo qua. Chi mi ammazzare dietro? Stendardo. E' morto. Stendardo, tesoro... E' morto. E' morto. E' morto. E' morto. Lai un'altra, scaragga, non c'è. E' morto. stato ok morisano stavolta l'abita di questi qua ok stiamo su tutti se vi favoriti sono stati andati su, perfetto resti qua caricatesti qua ok con l'altro gruppo oro, guardiamo oro, perfetto Ehm... credo che non possiamo andare qua? No! Non quello che voglio... Non lo so... Ok, ehm... Proprio, andiamo adesso così, così... Non credo proprio che la possiamo passare. Ehm... Ok, ho tirato una cosa che non serve... Perché... Nel momento ho pensato di colpire le due possibilità di essere colpiti, credo? Cominciamo qua... Posso ancora? Si, corsa... Con davanti... No, niente, mi sono dimenticato qua... Nope, niente... Perfetto... Perfetto... Qua che scava è morto... No, sono... Goblin... Si, sono Goblin... Qua è solo uno, credo sia morto uno solo... Si, è morto solo uno dei... Ok, qua c'è... Un cacchio di... Oh, levo tredici? Eh... Andiamo a combattere... Aspetta, levo diciannove... Aspetta, levo diciannove... Siamo... Aspetta, aspetta, aspetta... No, no... Ehm... Diciotto... Non so contro chi... Contro chi andare? No, no, no... Lui contro... Il più forte... Vai... Vieni, geniorexies! Mi spioli... Ti avrò... Ti avrò... Mamma mia... Come c'è... Così straccia? Come c'è... Come c'è... Vieni qua... Così straccia... Vieni qua... I armamenti... Certo... Espetta! Tornarexies! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! E' questa... Certo... Non funziona! Non funziona! Vieni qua! poi andiamo a far fine a questo bastardo ok, vabbiamo alzato allora cosa abbiamo qua? Capitano non c'è nessuno, ok un tesoro, un tesoro perfetto, dai lasciare misterioso e clever sono i miei movimenti è sicuro qui è sicuro qui adesso provo a far andare io sono herald di Hornwrap ehi, guarda vai vai carica sei tu il prescelto vai 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 ecco finalmente si buonanotte eh vai 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 displayed vai le vai No, diciamo un po' e loro ci servono, dove c'è chi è colato, ancora non ho contato di dato comodo, non è divergente, giallo, cos'è, testa? Ehm, cosa pure no? Ok, state allo suo attimo, sì, state allo suo attimo le vite, così non dovremmo spendere un sacco di soldi per tenere la sua personale di... Ehm, cosa vuol dire? Ehm, cosa vuol dire? 30, 40... 40, 45 sia, no? Tutto? 45... Non sembra sicuro Buono ragazzi, 51 boh, adesso dovremmo combattere, eh, facciamoli fuori sti, sto orco, sto forte, cacchio, e questo ho paura, tui scani qua, cacchio, il Play of Fancy Q non aiutare, e ho vai smasca con il tuo rato di là qui! La grande powera della mia magia tui ci saranno l'unichine in tutto il cho il claggio e il ragazzo, Oh, no! Oh, no! Oh, no! Clan Scariot! Il Consiglio della Team Arma! Oh, no! Come back for them later! Oh, no! Don't die! Ce la puoi fare, ce la puoi fare! C'è un vengente cacchio, puoi farcela! Oppa, dai! Non puoi morirni così, dai! Non puoi morirni così, dai! Oh, grande! Grande! Così te voglio! Ok! Ah, abbiamo finito? Vittoria! Allora, abbiamo conquistato di nuovo Pantano di Piaga! Perfetto! Eccoci qua! E' sempre io di... L'idea dei stipendi notti! Semi a pezzi d'oro! Oh, perfetto! Aspettate, mettiamo su un attimo più le persone! Eccoci da punti! Eh, 400! E qua abbiamo perso molte... Allora, allora, allora... Ma non ho capito, non è se sia, boh! Ehm... Chiudi! Forziamo altre belle cose! Qua abbiamo tutto preso! Mamma mia! Qua questo si è chiamato un pesante! Questo è tutto! Pure questi! Eh, tutto! Ehm... Tattà! Tattà! Si, è solo a Scraman qua! Ok! Tutti potenziarò... Così! Ehm... Aspetta, no! Non mangio le camerate! Non so sicuro se ci serviranno altri oppure no! Quindi, direi andate anche via! Ce n'altro! Cosa fa? Non posso Un attimo che aumento qua Ok è aumentato E Niente Dopo aver ricomistrato L'inquisto di Pantano di Piaga O Festermas Nel prossimo video Andremo verso la banda di Groviglio di Spine Mamma mia Sì di Spine Beh Scrivi Al prossimo video Ciao